Il tesseramento sta sicuramente andando bene con i nostri circoli che sono in piena attività e che stanno rinnovando le tessere già dell'anno scorso e quindi stanno chiudendo quello 2015. Però il mio oggi vuole essere un appello a tutte le persone che amano la politica e che credono nella politica con la P maiuscola, che vogliono una buona politica, una politica migliore. Iscrivetevi al PD perché solo dall'interno si riesce a cambiare veramente la politica in Italia. Solo così si potrà far prevalere il merito, la selezione adeguata della classe dirigente, le capacità, i temi. Quindi chiedo a tutti coloro che votano il PD ma che magari non si sono mai iscritti di iscriversi, di andare in uno dei nostri circoli e di dare il loro contributo per cambiare le cose, per renderle migliori. Tra le novità c'è anche un rinnovo del provinciale del PD a Pescara. Sì, ho mantenuto la vecchia segreteria, quella che è con me da ormai quasi due anni. Però ho voluto fare un'aggiunta di forze nuove e di energie che avevano da mettere a disposizione del partito e quindi ho inserito un nuovo responsabile tesseramento che è Mirko Secone, un nuovo responsabile del coordinamento della segreteria che è Massimo Di Tonto. Poi ci sono altri, Michela Madonna dei Giovani Democratici, Emanuele Pavone che resta agli enti locali. Tutti giovani e tutte energie positive per questo partito. Nel segno del rinnovamento il primo ottobre ci sarà un'importante tavola rotonda, Pescara nell'area vasta. Sì, io ritengo che il PD debba assolutamente farsi carico di parlare dei temi e delle questioni che riguardano il territorio. Una di queste iniziative è quella sull'area vasta urbana che faremo giovedì con l'eurodeputato Andrea Cozzolino. Parleremo di come Pescara deve stare al centro non solo di una fusione di comuni ma di una strutturazione diversa che comprenda un'area vastissima che non comprende solo tre comuni ma forse anche di più. Grazie a tutti.